C'è pure la magia di tacco di Gabriele Vangi nella vittoria dello Scandicci sul campo del Lentigione che lancia i blues ad un passo dalla zona playoff. Ammannati fa il resto. È festa per lo Scandicci. Nel gironè è pareggio esterno per il jolly Montemurlo che impatta 0-0 sul campo del Ligorna. Un altro punticino verso la salvezza, Biancorossi vicini all'approdo. In eccellenza l'Aquila Montevarchi supera per 2-0 il Valdarno nel derby e prosegue la festa promozione. Per la zona playoff è Vera Bagarre. La Valdaccio supera la Fortis Juventus e arriva al secondo gradino della classifica. Due gol pesantissimi per la formazione di Anghiari. Alle spalle degli Aretini tiene la Zenitaudax che proprio in zona Cesarini si salva a Signa. Silvestri, eroe di giornata, risponde alla pennellata su punizione di Coppola. In fase calante invece la Bucinese che perde in casa con la Lastrigiana che stegna tre gol e fa un passo decisivo verso la salvezza. Stesso discorso per la Sestese che rifila tre gol al Grassina e continua a sperare nella salvezza. Zona playoff e zona playout si intrecciano con l'unica certezza, la retrocessione matematica del Foiano che viene affossato definitivamente dall'Olimpico Sansovino. In promozione l'impresa del giorno è firmata dalla Vaianese in Pavida. I Valbisentini, grazie alla magia di Boisson e al gol di Coppini, affossano il Castelnuovo Garfagnana e consentono all'Aglianese di portarsi a più sei sui rivali lucchesi. I Pistoiesi passano a Vorno per 3-0 grazie alla doppietta di Guarisa e al gol di Marzierli. Adesso l'Aglianese è a un passo dalla promozione. Domani nuovamente in campo il Malisseti Tobbianese che affronta alla Gino Bozzi di Firenze e le Badesse nella finale di Coppa Italia e potrebbe tornare ad alzare la Coppa a due anni di distanza dopo il trionfo di Sesto Fiorentino con il Signa, ma l'Iseti insomma non sta nella pelle. In prima categoria l'audace Galluzzo batte il Ponte d'Ordinella e si aggiudica matematicamente il campionato con tre giornate di anticipo. Chapeau per i Fiorentini, mentre per le Pratesi, CF 2001 e Iolo in testa c'è ancora l'obiettivo playoff da accentrare per la serie Altro Giro, Altra Corsa.